Il sogno è lui, dopo aver dato l'addio a Cavani e all'orizzonte si staglia la sagoma di Zlatan Ibrahimovic. Uno scambio Parigi-Napoli che potrebbe portare in azzurro l'attaccante svedese accende l'entusiasmo dei tifosi. L'affare si può fare, De Laurenti si sarebbe perfezionando la trattativa in barca a Ischia, lo aveva annunciato in ritiro anche se in molti non lo avevano capito. E' infierissimo perché tre ore fa io mi sono stancato e ho detto marciamo su questo lato e Benítez ha detto molto volentieri, quindi domani sera avrete delle novità, io sarò a Ischia ma avrete delle novità. Sogni e certezze, una sembra l'addio definitivo all'ipotesi di Ulo Cesar per la porta azzurra e un tentativo di portare all'ombra del Vesuvio il portiere del Liverpool, Pepe Reina. Le ipotesi riguardano al contrario l'attacco e anche in questo caso lo stesso De Laurenti sa fare chiarezza. Iguain sarà anche brevissimo ma non siamo da soli, c'è il Chelsea che ha offerto delle cifre blu per dirla alla napoletana, c'è l'Arsenal che ha offerto delle altre cifre blu e poi ha fatto una frenata, quindi non è che noi Iguain non lo teniamo sotto la lente di ingrandimento. Fermo restando che per il nostro mister Damiao ha delle caratteristiche che sono molto giuste per quello che lui vuol fare, per come lui vuol giocare. Intanto Rafa Benitez prende sempre più confidenza con la squadra, Dimaro si suda e si lavora, in tanti si giocano un posto, altri sembrano certi di restare, molti hanno il cellulare sempre acceso. Il laboratorio Napoli 2013 è appena all'inizio ma promette di fare scintille.